Oh, giovani amici di Facebook, torniamo a parlare di droni, ancora una volta, con una nuova fascia di prezzo. Sapete che ormai sto seguendo un po' tutte quante le fasce di prezzo, sono partito con il piccolissimo nanodrone, poi vi ho fatto vedere l'Absan X4, in realtà il video non è mai uscito, ma non vi racconterò mai perché non è mai uscito, un giorno forse ve lo racconterò, e poi vi ho fatto vedere l'ultimo drone super figo della Parrot, che è chiaramente su una fascia di prezzo molto più alta, abbiamo detto questo nanodrone sta sui 15 euro, l'X4 sta sui 50 euro, il Bebop 2 sta sui 450 euro, ci sarà anche qualcosa in mezzo, ovviamente sì, e ho trovato, e mi è stato spedito da Conrad.it, che ringrazio, quindi non me lo sono pagato da solo per una volta, ma me l'hanno spedito, grazie Conrad.it, questo Rally Ciclone 245 FPV RTF e bla bla bla, sta sui 130 euro, ha una camera incorporata e andiamo a vedere come funziona e cosa c'è dentro alla scatola. Allora andiamo a vedere un attimo la scatola esternamente, davanti c'è si vede il telecomando, c'è anche un supporto per lo smartphone che adesso vado a prendere, mi servirà immagino, giroscopio 6 assi, speriamo che sia stabilizzato e che si guidi decentemente, perché gli altri droni low cost sono veramente impilotabili per quanto mi riguarda, sarà un mongolo io, però veramente non se ne esce. La trasmissione è proprietaria a 2,4 GHz, sul retro c'è qualcosa, sì, beh, fai flip, caricatore europeo, la camera barra modulo VLAN, la camera è una 640x480, 0,3 megapixel, il sensore non sarà certamente eccezionale, però vi ricordo che è veramente un drone molto low cost, sui 130 euro, adesso non è proprio super low cost come gli altri che vi ho fatto vedere, però vediamo come va. Vado a spacchettarlo, non l'ho ancora minimamente aperto, lo apro proprio con voi in diretta ora. Allora all'interno troviamo il drone che, come vi dicevo prima, è 375x375 mm, escluse le eliche immagino, il telecomando che ha delle protezioni sulle cloche, bene, e questa immagino sia la batteria e ci sono anche due coppie di eliche di riserva, da quello che ho capito c'è anche la protezione per le eliche da montare. Allora c'è davvero un sacco di roba, c'è il drone in sé con già 4 eliche montate, una batteria all'autonomia dichiarata è da 7 minuti, quindi insomma abbastanza poco, si ricarica in 80 minuti, così dice rally, poi c'è un sacchetto con un sacco di accessori, c'è un cacciavite, 4 eliche di ricambio, nel caso spaccaste quelle che sono già montate, qui ci sono un po' di viti da montare, poi c'è il supporto per il telefono, che immagino si monti sul telecomando che vedete lì, ci sono 4 paraeliche da montare, e questo è dove vanno queste vitine microscopiche che sono qua, immagino, adesso le monto, c'è il caricatore per la batteria e c'è quest'altro aggeggio che non so bene cos'è. Allora i paraeliche, direi che sono in grado di montarle anche senza guardare le istruzioni, si montano, ognuno ha queste 3 microscopiche viti e vi danno anche il cacciavite, purtroppo non è magnetico, è la punta, quindi non è proprio la cosa più facile del mondo a montarle. Ok, ho magnetizzato il cacciavite, che ha fornito così è diventato un po' più facile, ecco che adesso avete scoperto quanto può essere comodo il magnetizzatore che vi ho mostrato in uno degli speciali fai da te. Allora ce l'ho fatto, ho montato i 4 paraeliche, ho messo una vita, sono 3 viti ognuno, sono anche contate per cui gli occhi non perdono come ovviamente ho fatto io, una l'ho persa, le eliche hanno di buono che sono colorate, quindi quelle frontali sono verde, quelle sul retro sono nere, e poi da quello che ho capito ha anche 4 led colorati, li vedete qui sotto, esteticamente assomiglia moltissimo a un Phantom DJI, semplicemente più piccolo, e ovviamente non è un caso, comodo comunque il fatto che abbia i paraeliche già di serie, che non vadano per una volta comprate a parte. Ho caricato, mentre montavo i paraeliche, anche la batteria fornita, che è da 730 mAh, ho montato anche il telecomando, si monta qui questo supporto in cui va montato il proprio smartphone, ricordatevi che servono ben 6 batterie AA, quindi stilo, fortunatamente le avevo in studio, adesso le vado a montare, così lo troviamo subito questo drone. la batteria si monta, qui c'è uno sportello che si apre, vedete, esce fuori questo connettore a cui si attacca abbastanza semplicemente la batteria, ecco che si è acceso subito, vedete già i led di cui parlavo prima, quindi sono rossi sul fronte e verdi sul retro, e come vedete la batteria si va a infilare dentro qui, e poi dopo richiudete qua, dentro i cavi, rincastrate. Qui si vede la camera, che come vi dicevo è da 0,3 megapixel, 640x480 dovrebbe registrare filmati in H.264 a 30 frame al secondo, allora, quindi una volta attaccata la batteria lui si accende direttamente, non ha tasti di accensione, quindi deduco, vediamo se riesco ad accendere anche il telecomando, qui è un tasto on, non ho ancora minimamente guardato le istruzioni, ovviamente, allora tengo questo in basso, ok, vediamo un po' se funziona, ok, funziona già, voglio però, prima di proseguire, spengo un attimo la questione, voglio configurare la connessione con lo smartphone, quindi scaricarò l'app, eccetera, stacco la batteria, perché altrimenti se sono sette minuti in tutto, qua è un attimo proprio, magari mettere un tasto di accensione sarebbe stato un po' più comodo, però effettivamente non lo vedo, andiamo a vedere le istruzioni, le istruzioni sono in inglese e in tedesco, da quello che ho visto, questo Bedienus Galelituletung, Rolle, sì, questo è tutto in tedesco, optional part, guardavo prima, guarda che figata, water gun, bubble gun, volendo un monitor per il telecomando, eccetera, beh, insomma, dai, figliine ste cose, live video streaming and flight control via wifi, ecco qua, ecco qua, praticamente il modulo wifi è questo aggeggio qui sotto, che incorpora questo qui, è collegato, praticamente sarebbe un optional, però è già incluso in questa versione di questo drone della Rally, incorpora la camera e il modulo wifi con la sua alimentazione, wifi UFO, rinfilo la batteria dentro al drone, controllo che i cavi del modulo wifi siano collegati, wifi UFO, eccola qua, non ha password, ci si collega direttamente, accendo il telecomando, che ha questo suono terrificante, nelle istruzioni c'è scritto di premere play, l'app, come si vede, insomma, non è proprio il massimo della grafica, e direi che funziona, qui vedete, sì, la camera funziona, eccomi qua, devo dire che non è neanche una qualità così schifosissima, allora, proviamo a registrare, ok, sto registrando, ha una memoria interna, quindi mi viene da dire, per forza di cose, o forse sta streamando direttamente sull'iPhone, provo a decollare, ragazzi, allora, ha una stabilità che non pensavo, in realtà, perché invece che partire subito da tutte le parti, è volato quasi dritto, poi io lo sto pilotando al contrario, in realtà, quindi non è neanche facilissimo, devo dire che non va male affatto, adesso qui ho veramente pochissimo spazio, per cui non è facile pilotarlo, mi giro e provo a farlo volare in studio, non qui solamente sul tavolo, oh, eccomi qua, ridiculiamo, ma è molto stabile questo, ma non me l'aspettavo proprio minimamente, quello che è difficile fare in realtà è mantenere la stessa quota, perché lui continua a andare sull'iPhone, quindi devi compensare di continuo, però ha una stabilità che non mi aspettavo, e la mantiene abbastanza bene, devo dire. Allora, sono tornato qui sul tavolo, cavolo, devo dire che mi ha veramente stupito, perché ha un'ottima stabilità, diciamo, di volo, per quanto riguarda l'andare a sinistra e a destra, cioè rimane comunque fisso e parallelo al suolo, l'unica cosa che non ha e che fa abbastanza male invece, è la regolazione dell'altezza, nel senso che se tu lasci la stessa potenza, dopo un po' lui cala di altezza, per cui devi dare un altro po' di potenza, se ne dai troppa, sale troppo, quindi molli, scende giù, perché questo? Perché non ha chiaramente un sensore sotto, che gli dice a che altezza è, come hanno invece altri droni più costosi, come abbiamo visto per intenderci sul Parrot, che oltre ad avere un sensore ad infrarossi, ha addirittura anche una webcam di appoggio sul fondo, che gli dice proprio come è orientato, e invece il sensore gli dice a che distanza è da terra. Si può comunque regolare un po' il trim sul telecomando, per intenderci la sensibilità della manetta del gas, io qui era tutto di default, è già molto che sono riuscito a farlo volare dentro una stanza, senza uccidere nessuno, però devo dire che, rispetto agli altri droni low cost, che ho provato, attorno ai 50-60 euro, che fondamentalmente non riuscivano neanche a mantenere, la stabilità orizzontale, che invece è fondamentale, perché già se non riesce a rimanere in quota, è un discorso, ma su oltretutto va anche a sinistra e a destra, se vi ricordate il video che vi ho fatto vedere, è veramente un disastro. In più ha questa app che streama in tempo reale verso l'iPhone o Android, non ha una memoria interna, semplicemente streama in tempo reale e poi alla fine salva sullo smartphone. La qualità è chiaramente molto bassa, però sono molto curioso di vedere il risultato, poi vi monterò qui in basso a destra il filmato di mentre volavo. Allora, vi riassumo un po' i dati tecnici di questo ciclone 245 del Rally. Si trova a 130 euro più o meno su corrad.it, che ringrazio per avermelo spedito. Ha un live stream con l'iPhone o con Android, insomma, come vi spiegavo prima, che può registrare o scattare foto, chiaramente in bassissima qualità. Si parla di 640x480, il sensore è da 0,3 megapixel, 30 fps, registra in H.264, chiaramente dall'iPhone. La trasmissione è proprietaria, con un telecomando proprietario sui 2,4 GHz. Arriva, tra l'altro, con le protezioni per le eliche. L'ho già fatto sbattere, sverrete volte su dei muri e le eliche sono ancora intere, grazie proprio a queste protezioni, che solitamente sono un optional. È 365x375 mm. La portata del telecomando varia tra i 50 e i 150 metri dichiarate dal produttore. Mi sembrano abbastanza attendibili. L'autonomia è molto bassa, chiaramente attorno ai 7 minuti. La ricarica dichiarata è di 80 minuti, per la batteria inclusa. Ha un giroscopio a 6 assi, che confermo funzionare abbastanza bene. Ripeto, l'unica cosa che non va bene è il mantenimento della quota. Invece, lui si mantiene assolutamente stabile sugli altri assi, insomma. 130€ per questo tipo di drone, con camera incorporata e Wi-Fi, è un giocattolone, intendiamoci, le plastiche sono veramente di bassissima qualità. Sì, ci sono i LED che lampeggiano, per cui è facilmente utilizzabile anche di notte. Devo dire che avevo veramente bassissime, bassissime aspettative. Invece, c'è anche il suo bel telecomando, che funziona abbastanza bene. a tutti quanti i trim del caso, che io non ho utilizzato adesso in questo volo di prova, che probabilmente vanno a risolvere anche quello che vi dicevo prima sul mantenimento di quota. Nel senso che bisogna un po' regolare quanto è sensibile il gas, in modo tale che quando vai a compensare la quota che non riesce lui a mantenere, invece che partire in alto, in basso, a palla, come ho fatto io prima, riuscite a compensare un po' più semplicemente. Anche il telecomando ha plastiche veramente di bassissima qualità. Le pile non sono fornite insieme al telecomando. C'è qui uno sportellino che non so a cosa serve. Probabilmente ci si incastra qualche optional. Quindi ricordatevi, insomma, di comprare anche sei pile stilo. Vale 130 euro? Beh, perché no, in realtà. Il prefiristino era 140, in sconto 130. Sì, vale un centinaio di euro. Sicuramente vale molto di più rispetto ai droni che abbiamo già visto da 50-60 euro, che veramente sono molto difficili da pilotare. Questo è più grande, più stabile, ha la camera incorporata, comunica via wifi con il vostro smartphone e vi consente anche di girare dei piccoli filmati, ovviamente in bassa qualità, ma meglio di niente. Direi che un 100 euro questo tipo di drone li vale senz'altro. 130 valutate voi, sicuramente si trova anche a meno online. Grazie ancora a Corrad.it per avermelo spedito. Se vi piacciono i miei in crowd unboxing, i miei video di unboxing e di recensioni tecnologiche e non, fate like, fate share e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Ciao ragazzi!